Ciao ragazzi sono Fitterton e ben tornato a questo nuovo video Oggi siamo qui perchè come ho detto nel video di martedì Oggi andremo a parlare di quel bug che praticamente ha rovinato l'esperienza di speedrun di molti, molti player E ve ne sarò un pochettino a parlare in una partita o magari due se durano troppo poco Ok ragazzi eccoci in partita, questa è una delle mappe nuove che hanno aggiunto con l'ultimo aggiornamento in cui ci avevo fatto anche il video dedicato martedì E personalmente mi sembra anche bella, ma parlando un attimino del bug Praticamente io solitamente vi ricordate che facevo tipo così E ecco, adesso se vai troppo lontano dal mendicante praticamente non te lo conta Cioè ti sparisce il menu, una volta lo potevi portare all'infinito e potevi fare le peggio cose Personalmente un po' sta mappa non è che... Guarda sto speed, guarda sto questo qua con la skin del robottino di Adventure Time Eh nulla, ci ho provato a fare il clutch ma non è salita nulla Vai scappa 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 Ok ce l'ho fatta fare il salto Però ci ho dato l'indicante, io cavolo sa, vabbè Vabbè non è il dubbio, gli spacco il tesoro Stavo dicendo, praticamente questa cosa non ha influenzato tantissimo il modo di giocare di tanti Tra cui me, perché solitamente facevano questa roba per cercare di essere più veloci possibili E di conseguenza un po' ha rovinato l'esperienza di gioco Cosa vuole fare questo? Vabbè, in dubbio scappo Ok, perfetto, t'ho ucciso E però sta mappa è anche bella perché tipo ti fa direttamente il ponte per il centro Senza che hai dei bridge a te coi blocchi Bella sta roba Dicevo, praticamente questa cosa non... Personalmente ha influito molto perché so che anche tanto perdita lo faceva Infatti l'ho proprio imparato da lui E praticamente... Che è venuto a fare il giallo in base a me E praticamente non è... Adesso per fare le speedrun all'inizio devi consumare molto più tempo Cioè molti più secondi Visto che non si può più fare questa cosa Nel mentre al giallo gli spacco il suo bel tesoro E nel mentre potrei anche provare Perché nello scorso video non c'avevo... Sì ma non mi puoi fare le imboscate così però Cioè volevo dire, volevo provare un attimino i piedini perché non li ho ancora mai provati I piedini d'oro Ma mi diceva che tipo avevano featherfall in 5 Che ti proteggevano da qualsiasi caduta però vabbè Magari in una prossima partita potrò essere più fortunato Perché il video per oggi termina qui Io spero che vi sia piaciuto Personalmente ho voluto cercare di fare abbastanza corto Visto che non è... Non è che dopo di chissà che E nulla Fatemi sapere se volete che vi porti O altre challenge Oppure altre partite E nulla Io vi saluto Bella Ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.